Com'è quella storia dello sguardo? Quando è cominciata la nostra storia, 30 anni fa 30 anni fa? 30 anni fa, sì, più di 30, 30 anni e 3 mesi Dove vi siete conoscendo? A scuola Ah, allora avete presa proprio E il modo in cui mi guardava, il modo in cui mi guarda ancora oggi è quello che più o meno ha fatto iniziare la nostra storia Cioè come te guarda? In modo molto tenero, molto innamorato No, gli autori mi hanno detto come un misto di ammirazione Sì, sì, di tenerezza, ammirazione, milizia proprio Ammirazione e tenerezza insieme? Non è Cioè ti incontra in corrido io Per tutto quello che fa, posso fare quello Cioè la mattina vengo da Posso fare quello che voglio, mi appoggia sempre Dottoressa, è quello che le faccio sempre quando esce dall'estetista Che dico, ma non sono riusciti a fare niente manco stavolta Poi tenerezza Poi la tenerezza Vabbè, dai, è uguale Così è tenerezza Tenerezza Ammirazione Sbigottimento con ammirazione Esatto E mi sto immaginando lei dottoressa È proprio per questo che mi sei incubito No, non è vero Sì Come? Sì, il marito non è ancora andato dall'ottico La guarda così ancora dopo 30 anni Sì, sì, sì Chiedo che non la veda più La veda sfocata La veda sfocata Sono d'accordo È vero Ma mi vedo È verissimo, sono d'accordo Ah, non si riesce a concentrare col mio sguardo magico, io lo so Allora, è una donna che vive d'amore Però vorremmo anche farla vivere di qualche soldo qui ad Affari 2 Come no? Tenerezza o ammirazione? Ce lo teniamo il 9 oppure andiamo ad ammirare un altro pacco? Ce lo teniamo Ah, neanche vuoi valutare la possibilità di cambiare? Per adesso Così, sì L'ha dato la sorte e me lo tengo per adesso L'ha dato la sorte e me lo tengo per adesso Beh, ho capito, però Cioè, Rosario te lo sei anche andato un po' a scegliere, non è che te l'ha dato la sorte? Sì, in effetti, sì Senza nulla a pretendere, ma così Mi sto solo allenando Diventa una circostanza, non può essere mai contemporaneamente Ah, non tenerezza Anzi, io pensavo che era un fenomeno della ricitazione che lo faceva tutti e due insieme Ah, là sono più sereno Ah, allora, o ammirazione o tenerezza riesco Ah, va bene Che è uno sguardo Che invece insieme tenerezza e ammirazione insieme riesce a fare il maestro negro quando arriva alla griscia Quando arriva alla griscia Il maestro si commuove, c'è tenerezza, ammirazione, commozione, golosità Voglia di sbranare Esatto Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti